Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento un'ottima BMW 118D eletta 5 porte automatica. Monta quindi motore 2000 turbodiesel 4 cilindri tecnologia Euro 5, immatricolata nell'anno 2012, unico proprietario dal 2013 a percorso 125.000 km. Tutti tagli andati presso rete ufficiale BMW, tranne l'ultima manutenzione che è stata fatta da un generico. Veicolo mai sinistrato, qualche piccolo segno da parcheggio, risolvibilissimo, ruote in lega, specchi ripiegabili elettricamente, sedili in stoffa antracite, cambio automatico. Mostro. Ecco, 125.000 km, sistema di start and stop, clima automatico bizzone. Radio CD MP3, sistema di controllo Sport Eco Pro per il consumo e la gestione dell'erogazione. Quattro sono gli alzacristalli elettrici, vi mostro il servile posteriore, anche esso realmente in ordine. Vettura dai bassissimi consumi, disponibile in pronta consegna, vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.